D'asprezzo di smesso dell'arresto un'iscizza Alessandro e Stefano Calvia. L'usgiova sono l'urrasponsabra della rapina al tabacchi del carrelido, gli accusati di rapina aggravata, tant'era rapina, lesioni spalsionali aggravata, si polta abusiva dell'epistora. L'usgiova avvocati, vacca e mattana, sono rasi iscizza ottenere l'arresto miciliar. Al gennaio passato, l'usgio pregiuricata, ma la faccia magara, e al mazzo hanno preso l'ancascio della giunara, dei 4.000 euro, scappando a mano a moto. D'asprezzo d'ossamana del FET e l'arresto del partito degli agenti del commissariato di polizia dell'Alghè, fin dalla modifica della masura cautelare di Gesù Dias.